Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giorgio dalla provincia di Torino. Giorgio, buongiorno, faccia la domanda. Volevo sapere dal dottore, le borse sotto gli occhi, ho 70 anni, le borse sotto gli occhi, come si possono corregne? Solo con l'intervento chirurgico oppure chi sono altri ispedienti? Ecco, io ringrazio molto Giorgio appunto che fa questa domanda perché obiettivamente Giorgio, 70 anni, dice che si capisce che non ha tanta voglia di farsi l'intervento chirurgico se c'è una possibilità alternativa, il discorso per Giorgio è che non ci sono alternative alla rimozione delle borse perché dobbiamo sapere come sono fatte le borse, quindi le borse, quindi questa zona qua, facciamo un esercizio da casa che già devo fare, col dito indice uno va a cercare un bordo dell'osso, se trovate un bordo dell'osso e riuscite a entrare un po' dentro, quello è il bordo dell'orbita, ok? Quindi dell'orbita, pensate al teschio col vuoto, in questo vuoto del teschio dove c'è praticamente questo grande vuoto rispetto all'occhio, c'è dentro i muscoli che fanno muovere l'occhio, quindi la palla dell'occhio e poi tutto del tessuto adiposo, del grasso anche lì, il grasso c'è un po' dappertutto, questo grasso nel corso degli anni, alcuni pazienti che sono un po' lassi fin da giovani, esce fuori come nella fotografia che ha trovato la regia, lì si vedeva parecchio bene, e il compito nostro è quello di andare a ricostruire quella zona, quindi noi facciamo un tagliettino sul bordo cigliare, bellissimo caso anche questo che sta per vedere, un tagliettino sul bordo cigliare, dove ci sono le ciglia, come la ciglia dice che non si vede, proprio sul bordo, sopra la palpebra inferiore e sul bordo dove c'è le cigliettine, da lì scendiamo sotto, andiamo a togliere quel grassettino in più e poi togliamo una stessina di pelle e richiudiamo, se vedete c'è quella curvatura della palpebra io sono cannavesano d'origine e dico sempre che è come la diga di Ceresole, perché da ragazza andava a Ceresole e c'era l'acqua che spingeva e la diga che teneva quella curva, come tutte le dighe che tengono quella curva, lo stesso vale per la palpebra perché la palpebra ha quella curvatura, quindi noi dobbiamo andare a ricreare quella curvatura giusta con il grasso che spingerà, ma in quel caso ha spinto troppo, quindi ha spostato un pochettino la diga, quindi non c'è età per fare l'intervento chirurgico, questo voglio dire, nel senso che se Giorgio è arrivato a 70 anni e decide che comunque questa cosa è da fastidio la può fare benissimo, nel senso che non c'è, perché ci sono state due fotografie di una paziente giovane e una paziente meno giovane e questo qui sono due possibilità, però in realtà anche con la medicina estetica qualcuno cerca di dire che ci sono alternative, ma non sono alternative valide per ottenere questi risultati che sono ringiovanenti in una maniera folle e che tolgono… L'intervento avviene in anestesia totale oppure locale? Perfetto, l'altra domanda è l'anestesia è locale, però quello che succede, essendo che l'80% dei nostri interventi sono in anestesia locale oramai, cerchiamo di dare conforto al paziente, oggi ho visto stamattina due signore che devono fare la blefaroplastica con me e molto spaventate, perché tutti sono molto spaventati, allora in realtà è un intervento solo sotto che dura un'oretta e quindi in questa oretta uno che sta lì, noi che giriamo intorno all'occhietto magari si stessa un po', allora l'antistress è quella cosa che si chiama sedazione, che è una cosa oramai super aperta, devo togliere il dente difficile, mi fa una sedazione, mi è uscita la spalla, faccio la sedazione, devo fare la gastroscopia, faccio la sedazione, quindi è un tipo di anestesia che fa dimenticare al paziente il periodo, toglie il dolore e dà rilassatezza, l'idea è che quando chiudiamo i nostri farmaci il paziente si sveglia subito, quindi l'intervento è ambulatoriale, inteso che si fa in sala operatoria ma il paziente se ne va a casa senza stanza, con un cerottino, occhio aperto e cose di questo genere, però va a casa sicuramente non in forma, non potrà guidare lui, un po' ubriachetto, però dal punto di vista tecnico avrà vissuto molto bene questo tipo di chirurgia, che non è una chiama altro… Si fa in entrambi gli occhi in una volta sola? Certo, 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 l'idea è di dare la soluzione in una volta sola, in questo momento che il paziente arriva, come dicevamo prima, il paziente arriva da noi e quando arriva da noi vuole già avere delle soluzioni, allora si cerca di dare la soluzione migliore, con il tempo di recupero migliore e quindi una volta si faceva così, facevi un occhio, poi facevi l'altro, facevi queste cose così, invece adesso bisogna andare direttamente. Tutto e subito? Zero dolore, cinque… Zero dolore? Questo lei dice così perché dice che non l'hai mai fatto, peccato subito lo scettico qua di fianco a me pure. Allora, questa roba del dolore, noi abbiamo fatto una scheda, tutti i pazienti che operiamo gli chiediamo quanto male fa il loro intervento, questo è stato faccio da tantissimi anni. E incredibilmente due interventi hanno zero dolore, che sono la blefaroplastica, quindi l'intervento agli occhi e il naso, che tutti pensano che faccia malissimo, l'inoplastica, zero dolore. E il tempo di recupero invece è cinque, dieci giorni, per quei cinque, dieci giorni il paziente avrà zero dolore, starà bene, ma non potrà andare tanto in giro, che era la discussione di stamattina con la signora che diceva, ma io però dopo tre giorni posso andare a fare la spesa. Quel fuoriuso sociale. Grazie. 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 Grazie.